Siamo agli Sten Studios dallo Spazio Ontologico e Reca di Yuvala Vittal. E' stato bellissimo e faticosissimo! Un'esperienza totalizzante, bellissima. Un'esperienza senza altro entusiasmante, questa di coinvolgere in un'unica composizione musicisti che provengono da esperienze totalmente diverse. Coutume differente, couleur differente, langue differente. Dalla Mongolia, dalla Repubblica di Tuva, dalla Sardegna, da Israele. Ci sono stati diversi momenti in cui un po' tutti noi ci parlavamo. Siamo davvero commossi. Quando si sogna un sogno, il sogno è come un vettore infinito. La sua traduzione nella realtà è sempre una forma di compromesso. Ma a volte, nelle pieghe, succede un miracolo e per alcuni minuti il sogno incontra la realtà. E per questo voglio ringraziare tantissimo Mito che hanno copartecipato in questo sforzo enorme per dare qualcosa di nuovo, di coraggioso, di molto potente. E per questo voglio ringraziare tantissimo. Grazie. Grazie.